Di non sentirsi solo, di stare insieme agli altri, di partecipare, condividere, anche a scopare per terra, anche a litigare con il bambino, perché guardate, poi le occupazioni... Lì vi ha fatto bene, no? A dare questa immagine anche, insomma, allegra, perché naturalmente c'è, ma le occupazioni sono faticose. Non sono un pranzo di gala, avrebbe detto un vecchio presidente, orientale, e per cui lì dentro, insomma, c'è, come si dice, sudore, fiato, strilli.